Gino Mader e Björg Lambrecht sono due dei ciclisti morti in gara che sono considerati eroi dagli appassionati di ciclismo, così come altri più sconosciuti al grande pubblico per averlo fatto al di fuori delle telecamere in età non adeguate, come i 5 gregari di Miguel Induray morti per varie cause e il nostro protagonista di oggi, un ragazzo che nel 2016 ha la stessa età del saltatore con gli sci, riuscì a battere Primoz Roglic in una tappa del World Tour prima che lo sloveno diventasse una superstar mondiale. Otto anni dopo, mentre il vincitore del Giro e della Vuelta guadagna più di 4 milioni di euro all'anno grazie a due multinazionali dell'Europa centrale, Alex Izatevic muore nell'anonimato senza una causa nota, come un giocattolo rotto del ciclismo e del luce che ha dimenticato gli atleti del suo paese in una ridicola postura da caro vita, come un giocattolo rotto delle pratiche di doping attuate nel suo paese e come un giocattolo rotto della stessa madre patria russa, un cittadino che ha smesso di essere un professionista nello stesso momento in cui il suo paese è improvvisamente scomparso dal ciclismo di alto livello. Rendi omaggio a quest'uomo nei commenti mentre noi gli rendiamo questo umile tributo. Alex Izatevic è arrivato al ciclismo professionistico come tanti altri russi del passato, come Evgeni Berzino Dmitry Konishev, passando per il paradiso italiano per gli europei dell'est. Li ha gareggiato come juniore se U23 ha subito attirato l'attenzione della Katusha, la squadra russa creata nel 2009 dopo aver acquistato la licenza della mostruosa squadra Tinkov con cui ha ottenuto due vittorie di tappa con Pavel Brut e Vasil Kirienka al Giro d'Italia dall'IPO Mircera nel 2008. Due anni dopo, Zatevic faceva già parte della squadra in cui l'andorrano Joaquim Rodriguez trovò la motivazione per passare dall'essere un buon scalatore a diventare il numero uno della classifica UCI, vincitore di monumenti e podio nei tre grandi giri a tappe. Erano gli anni del ritorno del ciclismo russo ai massimi livelli dopo un decennio nell'ombra, grazie al sostegno finanziario dell'eccentrico Oleg Tinkov e, nel caso della Katusha, di un altro miliardario russo, Igor Makarov. Grazie al denaro, si è assicurato facilmente una licenza World Tour Ezzatevic ha trovato rapidamente i risultati necessari per avere successo nel ciclismo. Nonostante l'altezza inferiore a 1,70 metri, Alexei era un uomo veloce con un'eccellente velocità di punta e la maggior parte dei suoi successi è arrivata nelle classiche belghe e italiane di livello secondario. Ad esempio, ha ottenuto la sua prima vittoria da professionista nel GP Les Amines del 2013, quando ha approfittato di una pausa del gruppo per staccarsi negli ultimi 500 metri e alzare le braccia per lasciare la maglia della Katusha in cima. Una vittoria in classico stile conisceve un trionfo promettente per un ragazzo che a 24 anni pensava di poter divorare il mondo del ciclismo. All'epoca, Roglic era appena salito su una bicicletta per la prima volta come professionista con la modesta Adria Mobile e non avrebbe mai pensato di avere una carriera leggendaria. Misi dopo, avrebbe conquistato la sua seconda vittoria involata al memoria l'Adriano Rodoni contro mostri come il dopato, Franco Pellizzotti prima di rinascere in Bahrain, Sonny Colbrelli prima di diventare un mangiatore di mostri in Bahrain e il defunto e dopato Davide Rebellinalla, tenera età di 42 anni, proprio come Chris Horner, che mangiava hamburger, quando vinse la Vuelta in Spagna pochi giorni dopo. Satevic era euforico e continuò a crescere nelle due stagioni successive, ottenendo riconoscimenti in altre corse di provincia e in altre gare importanti, come la Gandue Velgem e la De Bravance Pial. Quelli furono gli anni del boom, con la comparsa dal nulla di Ilnur Zakarin, il popolare e magrissimo russo che ispirò la creazione del premio Zakarin del sito web Ciclismo 200. Cinque che, dopo essere cresciuto con Satevic nella Katusha, aveva vinto niente meno che il Tour de Romandie sul Keniano Bianco 2 per la Bilazia. Vincenzo Nibali subito dopo aver vinto il Tour de France, onnaurito quintane in una storica doppietta Katusha con lo specialista svizzero delle corse Simon Spilak. Satevic era passato in secondo piano con l'emergere di questo essere russo di luce, ma l'anno successivo anche lui ha potuto assaporare la dolcezza del successo. Un successo di breve durata, ma pur sempre un successo. Il 2016 è stato l'anno del cambio di maglia della squadra russa con la grande K che non potrà mai competere con una ciotola Special K, ma che doveva fare il grande salto di qualità grazie al piano di Vladimir Putin di riportare la Russia a essere la potenza sportiva mondiale che era negli anni del doping di massa dell'Unione Sovietica. Purtroppo per i russi, e in seguito alle indagini tedesche e a una commissione indipendente della UADA che ha scoperto la corruzione del presidente Lamine Diak, si è stretto l'assedio contro la Rusada, l'agenzia antidoping russa che nascondeva i risultati positivi al doping, che hanno iniziato a comparire in massa in varie discipline sportive. Nel frattempo, però, i ciclisti russi continuavano a svolgere le loro attività. Satevic diede la notizia alla volta a Catalunia, il primo evento World Tour a cui partecipò in quella stagione. Dopo essersi piazzato tra i primi dieci in quattro tappe e aver preso parte a diverse fughe e fughette, ha realizzato il sogno della sua vita il 27 marzo 2016, nella classica tappa del circuito Montjuic di Barcellona. Mentre dietro il keniano Bianco, Alberto Contatrollo e il suo leader Andorrano cercavano di sottrarre la maglia di leader a Tramadolito Quintana, Satevic andò in fuga con un allora semisconosciuto primo Trollic, che era al debutto nel World Tour con la squadra Lotto-Jambo. All'epoca, Rogla aveva ottenuto solo sei vittorie da professionista, nessuna delle quali nel World Tour. Tenendo a bada i tiri dello sloveno sulla salita di Barcellona e dandosi il cambio come se si conoscessero da una vita, i due riuscirono a raggiungere l'ultimo giro del circuito con un distacco sufficiente per giocarsi la vittoria tra loro due. Lo sciatore sloveno non è riuscito a lasciarlo andare sulla salita e, come se fosse un semplice verme, Satevic ha schiacciato Roglic sul traguardo, sfruttando la sua massima velocità. Fu l'unica vittoria del russo nel World Tour e l'ultima della sua carriera professionale. Fu l'inizio della fine. Due mesi dopo, al Giro d'Italia, Roglic ottenne la sua prima vittoria al World Tour e la prima in un grande giro distruggendo i favoriti nella lunga, cronometro pianeggiante dell'edizione. Da quel momento, la Lotto-Jambo iniziò a progettare un piano per trasformarlo nella superstar che è oggi. Anche i russi brillarono in quel giro, ma in questa occasione, nella formazione Gazprom-Rusvelo, molto vicina a Putin per ovvie ragioni e dove, tra gli altri, gareggiò il creatore degli hotel con camera ipossica e dopato, Aleksandr Kolobnev. Non è stato il veterano venditore di Liegi a trionfare in questo giro, ma due dei più grandi mostri mai creati nell'ultimo decennio. Sergei Firsanov che volava tra le montagne alla tenera età di 34 anni Aleksandr Foliforov, il mitico giovane senza vittorie che ha ottenuto l'unica vittoria della sua carriera nell'esilarante cronometro. Dell'Alpe di Suissi dove ha schiacciato Vincenzo Nibali e Steven Kruisvik come se fossero tristi omini di pan di zenzero, Stadvic non ha potuto brillare. La sua vita era così legata a quella di Roglic che proprio nel giorno del trionfo dello sloveno, Stadvic perse la sua grande occasione. Imbroglione come lui, decise di correre dietro allo specialista svedese Tobias Ludvigsson nella cronometro per gran parte del percorso e, fu espulso dalla sua stessa squadra dal giro dopo essere stato multato dal milionario Makarov. Lo stesso anno non rinnovò con la Katusha, ma la squadra e il ciclismo russo erano già in fase di demolizione. A luglio, la UADA aveva provato il doping russo alle Olimpiadi di Sochi e, grazie al rapporto McLaren, i russi erano stati banditi dalle Olimpiadi di Rio. Le indagini sono proseguite, ma quando si è trattato di ciclismo, il rubinetto è stato chiuso. Gli sponsor smisero di credere nei russi. La Tinkov se ne andò e Makarov se ne sarebbe andato poco dopo, vendendo la sua squadra agli svizzeri, con lo stesso sponsor che oggi sta devastando Mathieu van der Poel, lo sponsor del doping dei capelli. Satevic, ancora giovane, riuscì a trovare un lavoro alla Gazprom, la pensione di tutti i russi dell'epoca. Ma la squadra non era più quella che volava alto al giro del 2016 e nel 2017 ha avuto una stagione del tutto anonima. Così come Foliforov. Entrambi si sono ritirati alla fine della campagna, Satevic ha soli 29 anni. Mentre il giovane Alexander Vlasov iniziava a mettere la testa fuori da quella squadra sospetta, i russi che avevano visto le loro speranze infrangersi rimasero sbalorditi nel vedere come l'attuale corridore, della Bora, e compagno di squadra di Roglic, rinunciò alla sua nazionalità per poter gareggiare nel luci di Lappartient, che ti bandisce se sei nato in Russia, perché sei direttamente identificato come un corridore dopato. Satevic ha cercato la gioia nell'hockey su ghiaccio, ma non l'ha trovata. Ora è morto all'età di 34 anni, mentre Roglic cerca di vincere il Tour de France con Vlasov, l'ex russo, come suo luogotenente. La linea sottile tra successo e fallimento.